Un appello disperato è quello delle agenzie di viaggio campane che chiedono aiuto alle istituzioni per uscire da una crisi, quella del settore turistico resa drammatica dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Danni incommensurabili, ora che si potrà tornare a viaggiare usciti dal lockdown, ci si affidi a persone del settore per farlo in sicurezza, questo l'invito degli operatori del settore. Il danno che hanno subito le agenzie è un danno epocale, sono state trattate o sono ancora trattate come la maggioranza delle attività economiche, ma bisognerebbe avere attenzione al comparto turismo proprio in virtù del fatto che il comparto turismo non segue le linee guida o le linee economiche degli altri settori. Abbiamo un'esplosione delle criticità di quello che sono i rapporti del nostro paese Italia con gli altri paesi e di quello che sono le criticità economiche esistenti in Italia. In questo momento bisogna che stiamo uniti, soprattutto bisogna che ognuno di noi sia responsabile. Andare in un'agenzia di viaggi oggi più che mai, avere un consulente che è a conoscenza di tutto quello che sono non solamente le spiagge più belle o i ristoranti più belli o i paesi più alla moda, ma soprattutto come viaggiare in sicurezza ed essere assistiti H24 perché è importante affidarsi ai professionisti del settore.